Allora ragazzi buongiorno a tutti bentornati qui su questo mio canale Oggi siamo su un gioco nuovo che è Transport Fever 2 qualcuno di voi già lo conoscerà Oggi vi faccio vedere un po' questo gioco nuovo poi se vi piacerà tutto quanto Valuteremo se portarlo avanti sulla stessa mappa o no o cambiare mappa Questa mappa l'ho già iniziata come vedete già costruita, già bella grande questa zona di mappa Questa porzione di mappa l'ho già abbastanza sviluppata io e però appunto c'è tutta la parte di mappa di qua che è ancora tutta da sviluppare Che lo faremo insieme Allora partiamo dalla città principale che ho scelto, la capitale, che è Yusedom Questa città è la città principale appunto c'è anche 1800 abitanti Questa è la stazione principale con un bel po' di lie già attivate Ecco come vedete c'è la stazione qua che partono treni dei tipi, freccia rossa, intercity, treni regionali E tutto quanto La prima linea che ho costruito è questa qua Che vi faccio vedere Questa qui mi fa il giro qui, qui, vedete sta tenendo qua Questa è qua la prima linea che ho costruita Che parte dalla Yusedom Fa la stradina, una strada, una piccola tratta qua in mezzo della città E poi arriva qui alla prima stazione regionale Un po' qua a nord Poi prosegue per la sua tratta Fessi ferma qui per l'azienda, qui per l'altra azienda E poi si arriva a questa tutta città Una piccola tratta regionale Vedete, regionale, Yusedom, Cava, Carbone, Yusedom Ora posso cambiare anche il nome e arriva a Weltsin Ci sono solo due treni perché basta Lo vedete non sono pieni Non c'è tanta attesa nelle stazioni Vedete qui non c'è molto attesa Qui neanche Cioè bastano due treni perché tanto ne sono i due è pieno Poi la quantità di treni varia in base a quanto si riempiono i treni sulla linea Se servono più o meno treni sulla linea Poi vabbè ci sono tante altre linee Da cui le linee alta velocità Le linee intercity Queste poi comunque le vedremo nei prossimi giorni E niente Allora partiamo qua Questa città principale Ho Yusedom, Yusedom ovest Poi c'è Wilmshof Qua con la sua stazione principale Con un treno che fa La tratta express Che fa una o due fermate Poi si ferma qua E appena direttamente qui La regionale veloce Appunto che Fa sta tratta qua Abbiamo la tratta regionale in città Che fa proprio Il treno urbano Che si ferma dentro in centro Proprio Vedete Si ferma qua in centro Passa in mezzo alle case Vedete Questa qua È un treno Tipo la 3 metropolitana Si ferma così Tanto anche sto qua Non è molto pieno Quindi non c'è bisogno Di aumentare i treni Naturalmente ne abbiamo Si chiama metropolitana E io uso Yusedom 0-1 Perché Come treno metropolitana La usa E mi stai in città C'è il semaforo Ah Stai in crocia E il semaforo Dove attivarsi rosso Esatto Passa in mezzo alle case Stai in passaggio a livelli Infatti Che non va molto veloce 51 km rari E poi qua c'è L'altra stazione Che è in curva Quindi fatti va piano Il treno può entrare Quello non si ferma Perché giustamente Ragionale è veloce Vi faccio vedere prima Che non si ferma Questa stazione qua E ora riparte Adesso accelera Perché è uscito Dalla stazione Però vedete che Non va mai troppo veloce Perché infatti Va sempre intorno ai 50 60 km rari Si tratta qua Perché non Perché è in 100 città E poi riparte Si muove fuori Dentro a verdi Quando passano i treni E qua c'è il termine La corsa Vedete che si svuoterà Ora da 30 km rari E poi aumenta l'anno E ora riparte Dal capolinea E torna indietro E qua Quindi stanno precisi Dentro le stazioni Non sono troppo lunghi I treni Perfetto Poi ci sta sta stazione Appunto Che c'ha altre linee sue Tutti regionali Tranne questo qua Che è un regionale veloce Perché appunto È una stazione piccola Vedete c'è il treno Regionale di Trenord Qua che C'ha 40 persone A bordo Ho scelto mettere 1, 2, 3, 4 vagoni Solo Perché tanto Alla fine Non serve Un treno massimo Di 130 metri Perché mi sa che le stazioni Non sono molto lunghe Dove ferma Quindi deve fermare Di sta grandezza qua E sta tratta qua Fa La terra qui Fa tutto qui Il giro intorno Arriva a Yusedom Quindi fa un giro largo Dall'altra parte E poi c'è un'altra stazione Che fa capolinea A questo treno qua Che è un regionale Che fa una tratta un po' più lunga Perché parte da qua Fa così Poi va di qua Arriva a Yusedom E poi prosegue E finisce qui Quindi è veramente un po' più lunga Questa infatti C'ha 14 fermate Infatti è un treno un po' più grande Infatti è due piani Con 128 posti Così almeno Essendo che è un po' più lunga La tratta Almeno si deve Caricare più gente E poi qui c'è un'altra Trania regionale Che è questa qua Che c'è solo un treno Ok questo qui Che ha 144 posti E' solo un treno Quindi appunto Il seno che c'è un treno C'è tanti posti Non c'è bisogno Di mettere tanti E questa però È molto piccola Come linea Infatti è molto semplice Anche per questo C'è solo un treno Solo parte da qua E fa solo sta striscia qui Un treno regionale Semplice Una linea molto importante Con questo che ho fatto È il Freccia Bianca Che c'ha Tanti treni Come potete vedere C'ha ben 8 treni Che adesso vi faccio vedere Quando arriva Che è la linea Freccia Bianca Che è molto lunga Sono i treni di Freccia Bianca Su questa linea Ovviamente Con la linea Freccia Bianca Eccola qua Dove vedete Freccia Bianca E sta linea È molto lunga Ho scelto che È proprio molto grande Molto lunga Perché parte da qua Ce la spostiamo qua sotto Parte da qui Poi si ferma qui Poi Usedom Non l'ho fatta fermare Perché appunto Volevo far ripendere Un po' di velocità qua Fa il transito Che tanto si ferma qui I treni regionali Per i Usedom Si fermano Quindi alla fine Passano Cambiano Le persone Scendono E vanno qua Con i treni regionali Quindi va dritta Poi arriva qua Che c'è uno svincolo Ferroviario Va di qua Poi va qui Fa solo sta linea qua E qui va molto veloce Appunto Perché raggiunge 200 km orari In questa tratta qua Perché Freccia Bianca Può viaggiare Fino ai 200 km orari E qua appunto Gli raggiunge 250 km orari Vedete che Accelera Perché qua Tratta molto lunga Tutta dritta E Prende velocità Anche l'altro treno Arriva Vedete che Aveva 180 Forse non riesce A raggiungerli 200 Perché deve arrivare Già in stazione C'è 192 93 94 95 Vedete già Frenna Però insomma Può raggiungere i 200 E poi raggiungere qua Il capolineo Freccia bianca Quindi fa una bella Tratta da qua Fino a qua giù Perché giustamente Io ho voluto fare Che ci siano Sia treni veloci Per andare in certa città Che treni lenti Infatti Per venire fino qua giù Puoi scegliere anche Di prendere i treni regionali Però ovviamente Fanno un giro più lungo Perché tu Se vuoi partire da qua Con i treni regionali Puoi tranquillamente Prenderlo Prendi il Adesso Vediamo un altro Attimo Questo no Sì Puoi prendere questo Fai tutto il giro Di qua E arrivi poi Dopo Al fine Arrivi qua giù E poi Qua giù Prendi la freccia bianca Sempre andare là Oppure Sennò Prendi un altro treno regionale Che ti fa fare Il giro di qua E poi Vedete che c'è Tutti i territori Puoi aggiungere i treni Cioè Le strade Ho una stazione servita con treni regionali E treni di alta velocità Ecco Poi Come vi faccio vedere Questa qui è la zona principale Con tutte le strade Le città principali Le treni principali Anche Anche L'autostazione È molto grande Infatti tutti i termini All'occupati C'è 10 termini All'attivanti occupati Questa fermata C'è un sacco di gente Che lo aspetta Ma Vabbè Fanno lo stesso E poi Vedete Ci sono anche linee Di alta velocità Fleccia rossa Poi ci sono I regionali veloci Che sono I regionali Che fanno Lunghe percorrenze Che sono Anche belli lunghi Perché Questo qua È da 200 metri Questo Fa una percorrenza È abbastanza lunga Perché parte Da qui Arriva a Usedom Poi va di qua Qua E poi Arriva fin qua giù Quindi anche Questo qua È abbastanza lungo E poi c'è L'alta velocità Che deve raggiungere Le velocità A 300 km Questa qua Ha tre treni Uno è qui Fermo Uno è sull'alta Velocità Infatti sta andando A 262 km Vedete Questo qua Invece È appena partito Da un'altra stazione Ad essere lungo La linea Questo termo qua Adesso Che Mi sa che va Di là Esatto Ora entra lì dentro Questo termo qua Come potete vedere C'è un grande Miscuglio di linee Qua che fanno Avanti e indietro Perché qua arriva La linea regionale Quella che va Dall'altra città Qui arriva la linea locale Più regionale veloce Che arriva da qua giù E poi da qua È un collegamento Che ho fatto in più Qui Se deve servire Di giungere un'altra linea Almeno non traffica Troppo a tratta qua E poi arrivare Anche su questi binari Qua Può arrivare E poi Qui arrivano Le linee Che arrivano Da questa zona qua Che arrivano Questa linea regionale Qui Poi vedete che Sanno diverse Esatto Arriverò Questa E questa qua E poi da qua Arrivano un sacco Di linee Si muovono Qui invece Vedete che Sono un sacco Di colori Perché qua Si muovono In alta velocità L'intercity Arriva pure Vedete Poi c'è il frecciolo Un sacco Lungo lungo Questo è 328 metri Infatti vedete che Entra dalla stazione Arriva Che arrivano Giù in fondo Poi si ferma Anche qua Momenti Non ci sta Neanche tutto E si fermerà Qua infatti E il treno La punta La taggia giù in fondo Quindi Averete un po' voi Poi vedete Tutti i treni Danno la precedenza Tutti i fanti Si fermano E danno la precedenza Agli altri Questo si ferma Perché è passato Prima questo qua Appena si toglie Lax Questo qui di mezzo Questo qui parte Perché va di là Guardate No Vuol dire che è partito Prima con alcun altro Questo mi sembra Partito prima Si è preso la precedenza Lui Esatto Quindi vuol dire Che passerà Prima lui E andare di qua Sopra sto punta Qui E poi partito Questo qua Che va di là Invece Niente Poi ci sta L'espansione Appunto In questa città Qua con i suoi treni Poi ci sta qua La zona industriale Perché qua ci sono le segherie Dove raccolgono il legno E portano qua il legno Lo lavorano E poi qua insieme ad altri prodotti Poi fanno Macchinari Che sono questi Cosi qua Se rotelle Che poi vengono portate Appunto Delle città Scusate Perché ovviamente Per espandere Se le città Non bisogna Di ricevere Tutte queste cose qua Per espandere Se bisogna Di ricevere Questi prodotti qua Le macchinari E le merci I macchinari Li produciamo qua Perché tramite il legno Che portano qui Che poi portano qua I camion Come vedete qua Vedi c'è i camion Che portano il legno E poi Gli altri camion Che portano le assi di legno Qui o qua Poi le lavorano Insieme a queste qui Che sono L'acciaio Che viene portato col treno L'acciaio arriva Con questo treno qua Arriva Che arriva da qua L'acciaio Che passa qua sotto Sotto qui Il treno Arriva qui E porta l'acciaio E poi facciamo i macchinari Che vengono smistati qua Con Vedete con tutti i camion Che vanno in città Per esempio Il camion di Usedom 2 Vedete va qui Porta i macchinari In questa zona Perché ovviamente Noi vediamo anche La zona industriale Così Dove vogliono macchinari Vedete Macchinari Le merci Vediamo dove vogliono Tutte queste cose qua E le portiamo con i camion Così la città si espande Sia in altezza Come vedete Grattacieli Che in larghezza Perché appunto Io ho costruito Questa città qua A Usedom Ma nel frattempo Da sola si espansa qui Poi questa qua Si espansa qui E tutta qui Anche Vedete Sta espandendo anche un po' qua Però appunto Dalla tappata del fiume È più difficile Che si espande Però Col tempo Vedete che si espande tutto E poi come seconda città Ci sono queste Queste Questa qua Rimsfeld Che è la stazione Che è servita Da regionale Quello che ho visto prima Da regionale Quello che ho visto prima Due piani E poi È servita anche Da regionale Quello là Piccolino E anche Dall'intercity Perché questa città qua È servita anche Dall'intercity Che si ferma Su questo piano Qua Intercity Che è questo qua Vedete Intercity notte Intercity notte Intercity notte Misto con altri treni Che fa una bella tratta Questa Intercity parte da qua Arriva qui Sferma qui Poi va dritto Vum Prende la velocità Fa questa tratta da qua Veloce 200 kV Arriva qui E poi anche qua Diretto Dove prende velocità E arriva direttamente In questa città qua Ovviamente Per arrivare qua giù Ho fatto anche Collegamenti ferroviari Regionali Perché tu puoi arrivare Da qua A qua Con i treni regionali Perché prendi Il regionale veloce Questo qua Che fa la stessa tratta Però fa quella lenta Quindi passa qui Fa le curve Passa in mezzo Qua Perché l'interno regionale Appunto Non va a 200 Quindi non lo metto Sull'altra linea Veloce Lo metto qua Sulla linea lenta Però non si ferma Le fermate Vedete che passa in mezzo Arriva qua Tu poi Dopo da qui Puoi scegliere Di prendere l'intercity E andare di là Oppure andare avanti E cambiare treno Poi Perché l'inter regionale Veloce Va di qua Intercity Poi va di qua E poi va di qua E qui Puoi scegliere Di cambiare il treno E prendere il regionale Per andare Per andare appunto Di là In questa città lì Prende regionale qui Che torna indietro Fa il ponte Poi va a destra Si fa tutte le fermate Delle varie aziende Qui perché Per i lavoratori Salve che partiamo Il treno Vedete che ci stanno I lavoratori qui E poi Arrivi finalmente Qua alla città Con i treni regionali E basta Molto semplice E almeno così Tutti e tanti Sono contenti Poi di L'ho fatto anche Più che altro Per seguire Più possibile La realtà Perché Mi piace Il fatto che Ci siano più opzioni Neanche i treni regionali Di potersi spostare Ovunque Perché voglio che In ogni città Si possa arrivare Sia con i treni veloci Ovviamente Se ci sono Sia con i treni lenti Ad esempio In questa città qua Che è proprio piccola Per ora Non c'è nessuna linea veloce Sta regionale Che parte da qua E fa arrivare laggiù Tutta la linea Tutta la parte costiera Dove ci sono le aziende Vedete Qui si fermano Anche la spiaggia Qua vedete Si fermano Dove ci sono le aziende Qui si ferma In mezzo E passa Il regionale veloce E arrivi qua giù Poi è servito Dal regionale Questo qui Che parte da qua Si ferma qui 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 E qui Perché qua ho fatto Un'altra fermata Intermedio E arriva in questa città qua E poi sta ritando Una regionale veloce Questo qua Che parte da laggiù E fatto Sottra da qua E arriva lì Senza fermarsi Perché ovviamente Parte qua Si ferma la città Più importante Questa Questa Poi da qua Tira dritto Tira dritto Fino a qui Perché appunto Da qua Non c'è bisogno Che si ferma Da nessun'altra parte Perché tanto C'è la linea regionale Che ha fatto Tutte le fermate Per lui E quindi C'è l'opzione Un po' più veloce Per arrivare fino qua E infatti Il regionale veloce L'ho fatto Con i treni più A due piani In caso Se qualcuno Volesse andare Un po' di più Invece Per il regionale lento Ho messo I treni più lenti Quelli là Piccolini Questi qua Hanno appena spazio 93 posti E sono Veniti più corti Sono Tre vagoni E sono anche Un po' più lenti Infatti vedete Che va A 100 Non va molto veloce Anche sto qua La linea regionale Ve arriva a 60 Qua E fa tante curve Quindi non Va anche per questo Va lento Sta precisa Nella stazione Vedete La stazione È molto semplice Con il di legno Collegata Con le strade Di campagna Qua Fino alla Questa qua Regionale Regionale E poi vedete Qua diventa Verde Si abbassa Le sbarre Per farlo passare Poi vedete Che quando passa Il treno Passare Suona il Fluxo E poi vedete Che si alzano Le sbarre E diventa Rosso Quando passa Si alza Le sbarre E qui Venta Rosso Perché vuol dire Che è occupata La linea Beh ragazzi Per questo episodio Vuol dire Che è tutto Per questa volta Vi ho presentato Tutta la città Come è fatta Vi ho fatto vedere Com'è La mappa Poi Nel prossimo episodio Vedremo ancora Un po' di cose Un po' di Panoramiche Appunto Tutta la varia mappa Che ho costruito E poi Una volta che vi ho fatto Tutto il tour Vi ho spiegato un po' Come funziona Tutta la mappa Iniziamo a costruire Qualcosa di nuovo Iniziamo a migliorare Le strutture già esistenti Perché Ci sono cose da sistemare Ovviamente E niente ragazzi Vi ringrazio per stati qui con me Vi ricordo di lasciare Un mi piace Iscrivervi al canale E Fatemi sapere nei commenti O con il like Appunto Se vi piace questa serie Perché La porto avanti volentieri E Nulla Grazie a tutti E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.